Grazie a tutti. Che cosa preferisci per la finale? Ergamo Romana? A me è male, non c'è la preferenza. Ti viene, viene. Un saluto ai tifosi. Ciao, grazie a tutti. Luna Carotti, ti hai appena detto che ci credessi. Ma sì, c'è un po'... non si è addorato un turno, però vabbè. Abbiamo fatto di bene, abbiamo fatto una buona stagione. Diciamo che in questo momento non è sempre passato. Per me, rammarica il quinto posto, perché compro l'Opera. Però la stagione comunque è positiva, siamo giovani. Non avevamo altri obiettivi di vincere un finale su una cappa. Sicuramente è un progetto, quindi possiamo anche tenere tutte le spazie. Mi dispiace, mi ho vinto a me. Eravamo veramente vicine, non so che questa partita in qualche modo si potrebbe vincere. Poi giocavi tutto in una partita stessa e qualcosa in più poterla fare. Però ormai è andata, quindi c'è anche un'altra selezione. Io penso che il gruppo deve far vedere delle buone cose, che si debba confermare. Non è stato scoperto. Non è stato scoperto. Si debba confermare nel senso che debba continuare a Nicolai. Dovete forse appuntire un po' la mentalità della finalista? Sì, diciamo che il pallone scotta alla finalista è un po' di paura c'è, non abbiamo mai giocato. Noi eravamo praticamente tutte sordienti in semifinale scudendo. Quindi, io ti puo dire, è ovvio che non sapevamo come giocarla. Se dovesse capitarne un'altra, ognuna di noi, penso che sarebbe più pronta. Cosa dici ai tuoi tifosi? Beh, le ringrazio tanto per quest'anno perché sono veramente stati vicini, sono venuti a Catania, sono stati veramente calorosi. E in particolare gli amici delle farfate. Le ringrazio tanto e spero appunto di rivedervi in prossimo anno. Ora vedremo.